Perché le persone credono ancora nelle autocertificazioni nei post su Facebook? Buongiorno e benvenuti al Caffettino, io sono Mario Moroni e come ogni mattina alle 7.30 parliamo insieme, come davanti alla macchinetta del caffè, delle tematiche riguardanti il nostro business digitale. Oggi parliamo di quelle autocertificazioni, tra mille virgolette, perché non hanno nessun valore legale, che vediamo spesso su alcuni utenti su Facebook. In questo periodo c'è chiaramente la moda, almeno in quello di cui vi sto parlando, il 19 di agosto dell'autorizzazione a isolare i bambini in caso di febbre, eccetera. Ma ce ne sono di ogni, nel senso che ad ogni ondata di fake news, ad ogni ondata di informazione, questi utenti fanno sì che altri li possano togliere da Facebook. Nel senso che il post viene pubblicato, talvolta è una copia e incolla di alcuni testi trovati online, in cui questa sorta di autorizzazione, autocertificazione, viene pubblicata e in qualche maniera qualcuno, non so come, negli uffici di Facebook, li depenna dall'autorizzazione. Tutto fake, tutto fake news e tra l'altro la cosa che mi stupisce è che non sono solamente i nonni di Facebook, cioè quegli utenti, non so, tra i 60 e gli 80 che non conoscono bene lo strumento, ma sono la maggior parte utenti sulla trentina, utenti che hanno tendenzialmente, dovrebbero avere delle responsabilità anche civili e penali in generale nella loro vita. E quindi non saper distinguere una fake news da una, diciamo così, una catena di Sant'Antonio da un'informazione normale, a me spaventa parecchio. Nella storia di internet ce ne sono stati diversi di casi, i gattini dentro, i barattoli di vetro, le mail a pagamento, le multinazionali che investono in armi, eccetera, Cioè tutte situazioni false, ma che in realtà facevano muovere questo popolo di fake newsari, mettiamole così, e che condividevano il post. La soluzione secondo me è molto semplice, è che a un certo punto Mark, se si è l'ascolto o altri social bene agite, è penalizzare questi utenti, far sì che non abbiano la possibilità di condividere il loro pensiero o condividerlo sempre in meno persone, ma io non glielo farei neanche a vederlo, lo farei nell'ombra, come appunto una retroinformazione, come una vera fake news. Non condividere chiaramente questo pensiero, e secondo me il nostro suggerimento per noi che ci dobbiamo lavorare, purtroppo, sui social, è smettere di seguire, cancellare, segnalare, muoversi uno alla volta per cancellare dalla faccia della terra questi utenti. Quindi detto questo, bisognerebbe veramente, come io propongo per, non so, avere l'affido di un cane o di un gatto, la patente appunti appunto, come c'è in alcuni paesi, tra l'altro e non in Italia, potremmo fare anche una patente appunti, come accade in Cina, per l'utilizzo dei social. Cioè se non sai utilizzarli, caspita, togliti dalla strada, no? È un po' come l'automobile, vabbè, forse è un po' troppo, però bisogna farci un ragionamento, perché di questo parleremo nei prossimi anni, di questo parleremo da qui, tra l'altro a novembre, alle elezioni americane, e non soltanto. E con questo concludiamo anche il caffettino di oggi, noi ci risentiamo come sempre domani alle ore 7.30, qui, pronti partenza via, condividete il caffettino, oppure anche entrate nel canale Telegram, Mario Moroni Canale, e ci vediamo lì e chiacchieriamo tutti insieme. Una buona giornata!